Con Leo Chilli, Presidente del Panathlon Club San Marino, parliamo della giornata di sabato 17 novembre. La giornata Panatletica, che noi chiamiamo giornata Panatletica, è la settima edizione e questa giornata vedrà presente sicuramente il Presidente internazionale del Panathlon Club che è il Dottor Giacomo Saldini, sicuramente sarà presente il Segretario di Stato allo Sport e al Turismo a Piberardi, si sarà sicuramente presente il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale San Marinese, Angelo Vicini. In più avremo la fortuna di avere come relatore il Dottor Carlo Romeo, che è il neo-direttore della San Marino RTV, che farà un intervento, una piccola relazione sullo sport e le scommesse nello sport, quindi sarà un momento molto interessante. Dopo i saluti e gli interventi dei relatori ci sarà il momento delle premiazioni, premieremo dei personaggi, degli atleti e delle squadre sanmarinesi che sono particolarmente distinte del passato anno, poi consegneremo i premi Fair Play, dopodiché avremo la premiazione dei ragazzi di studenti atleti, che sono addirittura cinque ragazzi che hanno ottenuto straordinari risultati sia a scuola che nell'ambito sportivo, e alla fine premieremo i vincitori del concorso fotografico, del settimo concorso fotografico, e alla presenza degli eccellentissimi capitani regenti poi inaugureremo la mostra che ci farà vedere le opere nel loro complesso, di colori che hanno partecipato al concorso fotografico.